La vede è stata autorizzata la pubblicazione di Gameplay 7! Ok ragazzi, iniziamo col botto. Qui possiamo vedere gli effetti di un'esplosione nucleare lanciata da altri giocatori. Ovviamente questa è un'alpha, quindi gli effetti sono al minimo. È stata giocata su Xbox One X. Ovviamente nel gioco completo saranno migliorati. Qui, come vedete, è la stessa foglia che si ripete a manetta e fa un po' schifo, diciamolo. Comunque ragazzi, se non siete iscritti, iscrivetevi al canale perché a breve farà uscire una marea di gameplay. Il sistema di avanzamento di livello abbiamo detto praticamente tutto. Ho già fatto un video, quindi se avete dubbi ve lo linko in descrizione e andatevelo a vedere. Comunque finché non raggiungeremo il livello 5, il PvP per noi sarà disabilitato. Quindi nessuno ci romperà le scatole fino al livello 5. Invece se abbiamo proprio voglia di procurar battaglia, esiste un canale della radio dedicato al PvP che si chiama Cacciatore e Preda. Chi sarà sintonizzato a questa radio verrà messo in contatto con altri giocatori sintonizzati a questa radio, proprio per fare in modo che possano combattere invece di andare a rompere le scatole altri giocatori che non vogliono combattere in PvP. Quando voi sparerete dei colpi d'avvertimento contro un altro giocatore, potrà decidere se accettare il combattimento in PvP. Se non lo accetterà, i danni saranno limitati. E di molto, non gli faremo quasi nulla. Se invece accetterà, partirà un duello. Ma se non risponderà al fuoco, quindi non accetterà di partecipare a questo duello, e noi continueremo a fare fuoco, diventeremo dei criminali e avremo una taglia sulla testa. In più, se verremo catturati e uccisi, la taglia la dovremo pagare di tasca nostra. Ci saranno proprio una marea di missioni a cui potremo partecipare. La storia principale, cioè la Country Road, che consiste prevalentemente nel cercare di bonificare l'West Virginia, a suon di testate nucleari, uccidendo tutti i mostri, compresi i pipistrellozzi, che sono i peggiori. In più ci saranno le solide missioni secondarie, ma anche in questo Fallout vengono aggiunti gli eventi pubblici, temporanei e giornalieri. Quelli giornalieri potremo partecipare nel corso della giornata, quindi avremo 24 ore per poterci accedere, a cui potranno partecipare tutti, anche in 15 praticamente. E sono molto fichi, in stile Call of Duty, con orde e orde di goal che arrivano. Per adesso io ho visto solo questo, ma probabilmente ne implementeranno altri. Stessa cosa per quelli temporanei, soltanto che avremo un tempo limitato per poterci accedere. Quando un giocatore ne attiverà uno, avremo avvisati via radio e sulla minimappa comparirà un'immagine. Quindi potremo anche iniziare un viaggio rapido e andare lì e unirci al combattimento. A missione compiuta riceveremo dei rifornimenti governativi, quindi in teoria questo è il primo contatto che abbiamo con l'enclave. Qui invece c'è un attacco di super mutanti. Già vedo che hanno un'armatura che non avevo mai visto, almeno l'elmo che aveva. Il Moatman, regà! Van School Moatman. Quindi già questo ci fa capire che ne esisteranno vari tipi, non è vero che ce n'è solo uno. Non è neanche così resistente quanto ce l'immaginavamo. I golferali, come vedete, hanno vari vestiti, ancora i vestiti addosso. Tipo da burini qua con la visiera in stile proprio West Virginia style. Il Grafton, regà! Massa che bestione! Madonna mia! Però sembra abbattibile, sembra abbattibile. Qui invece vediamo il menu di creazione del personaggio, l'avevamo già visto. Comunque, come avevamo già detto, le missioni si prenderanno prevalentemente da robot e olonastri. Molti olonastri ce li avrà lasciati il suo rintendente del Vault, che ha abbandonato precedentemente il Vault 76. Comunque, probabilmente, parte della missione sarà proprio capire il perché questo sovrintendente ha abbandonato il Vault. La storica... guardate il robottino come lagga! Oddio mio! La storica apertura della porta, comunque. Vabbè, il robottino lagga in una maniera estrema. Comunque, vabbè, ripetiamo, è una pre-alfa. Una pre-beta, un'alfa, insomma, quindi... Come vedete, a differenza del 4, non troveremo dei scheletri, ma le persone morte sono ancora consistenti, diciamo. Sono ancora dei cadaveri. Col ferali col cappellino, da guardia forestale. Ecco gli scorched, ragazzi, il primo avvistamento. All'anima se non sono ferali. Hanno anche, tipo, delle ossa che gli crescono addosso. Non lo so, sembrano dei funghi. Comunque, già come avevamo detto nei video precedenti, sono una fazione di Gaul che possono indossare armi e armature. È stato rintrodotto il CND, quindi dovremo riparare le nostre armi. Man mano che le useremo, sia le armi che le nostre armature si rovineranno, quindi dovremo ricostruirle. Si potranno modificare e potenziare tutto quello che potevamo già fare sul 4, insomma. Ecco il camp, ragazzi, per costruire il nostro insediamento, che a quanto pare, a differenza di come delle nostre aspettative, è stato molto ampliato. Ci saranno molti e più oggetti, potremo metterne sempre in più, ci saranno anche degli aggiornamenti. Avevamo paura che le costruzioni sarebbero state limitate, invece a quanto pare potremo costruire dei bei fortini. Le torrette serviranno prevalentemente per uccidere i mostri. Non è chiaro se si attaccheranno anche gli umani. Forse solo se sono ostili e considerati dei nemici, se hanno, insomma, attaccato un altro giocatore e quindi hanno una taglia sulla testa. Però in teoria serviranno prevalentemente per i mostri, anche perché altri giocatori non potranno prendere i nostri oggetti dai bauli. Però potranno tranquillamente entrare nel nostro insediamento e craftare. Forse si potranno settare per attaccare anche i giocatori, questo non è chiaro. Oddio, questi sono morti. Mentre facevano lo scivolo. Potremmo fare lo scivolo anche noi. Che bella l'apocalisse! Il panico prende possesso di noi. Ha spezzato tutte le ossa! I nostri compagni vengono in nostro aiuto. Come vedete, se siete nello stesso gruppo, avete sparato allo stesso mostro, prenderete i punti esperienza anche voi quando lui morirà. Invece avrete inflitto il colpo di grazia, prenderete ancora più punti esperienza. E gli oggetti posseduti dai mostri possono essere raccolti da tutti quanti. Gli unici oggetti unici saranno quelli al di fuori dei contenitori, quindi se entrate dentro una casa correte a raccogliere tutte le cose che stanno sparse, perché quelle, il primo che le prende, se le tiene. Mentre le cose nei bauli e nei mostri le possono raccogliere tutti. Il Whitespring Resort, quello che state vedendo, esiste davvero. E' proprio qui la location dove si è svolta l'ultima conferenza a Bethesda, dove è stato testato questo gameplay. La cosa molto interessante è che in questo resort, negli anni 50, era stato creato un gigantesco bunker sotterraneo che doveva ospitare l'élite politica, tra cui il presidente degli Stati Uniti. Per adesso, di questo bunker non è trapelata nessuna immagine, quindi in teoria nel gioco non esiste. Comunque qui dentro sembra tutto inalterato, come se non fosse stato toccato dall'olocausto nucleare. In più troviamo degli NPC robot per poter fare acquisti, dei classici mercanti. Come ben sapete c'è la possibilità anche di diventare noi stessi dei mercanti, ne abbiamo già parlato ampliamente. E il Mothman sarà difficile da avvistare, non potremo ucciderlo subito. Killato in tre ore. La mappa è immensa, quattro volte più grossa di quella di Fallout 4. E come dice Croix, se non ce l'hai grosso negli open world non sei nessuno. Comunque l'aspetto negativo di cui avevamo già parlato è che non ci sono pause, ovviamente, essendo un multiplayer mi pare logico. Lo SPAV c'è ma non rallenta il tempo, quindi è un po' un casino. Giustamente i nemici corrono a destra e sinistra e vanno dietro i muri in un attimo. Vi ricordate lo SPAV in realtà rallentando il tempo era difficile che finivano per andare dietro i muri. Cioè succedeva, però non era una cosa che succedeva così spesso. Adesso è impraticabile. Alla fine risulta preferibile sparare nella maniera classica. E questa è una delle pecche che volevo dire di aver notato. Anche la grande mole di notizie da leggere e da ascoltare con gli olonastri, mentre gli altri giocatori comunque continuano a giocarti intorno, a uccidere e andare avanti nella missione. Certo è vero che giocare con delle persone che apprezzano la storia e la lore rende il gioco già più bello, perché se tutti quanti ci fermiamo, aspettate un attimo che ascolto l'olonastro e vi racconto questa missione, ovviamente il gioco prende tutta un'altra piega. Invece se giochiamo con un gruppo di scemi che mentre te stai a cercare di capire cosa state facendo, va avanti, ammazza tutti senza ragionare, si rovina il gioco. Quindi dipende un pochetto anche da chi sceglieremo per accompagnarci in questo viaggio. Questo è quello che succede ovviamente se cerchiamo di avvicinarci all'esplosione nucleare senza indossare un'armatura atomica o una tuta hazmat. Comunque ragazzi, se avete ancora delle domande, tra i commenti troverete una playlist dove rispondo a tutto. Ok raga, spero che il video vi sia piaciuto, io il prima possibile farò uscire un sacco di gameplay, il fatto è che ovviamente, come immaginerete, io non vivo con YouTube, quindi ovviamente lavoro e il tempo è quello che è. Quindi ce la sto mettendo tutta, ho cercato di far uscire sto video il prima possibile, lavorerò subito ad un altro video dove analizzeremo la country road, cioè la storia principale. Andremo anche a vedere un bel po' di misteri che già sono cicciati fuori, tipo questo. Non si sa che cacchio è, perché dentro una cuccia ci dovrebbero essere dei calcoli matematici e una lavagna. Sembra una lavagna tipo da scienziato, quindi non lo so, o un cane super intelligente oppure un mini alieno. Non lo so, ma che cacchio può essere? Può essere di tutto, quindi sparate anche le vostre teorie. Comunque mi sembra una figata pazzesca, cioè non so, poi ha qualche problema dei framerate, ma è l'alpha, quindi è normale. Certo, è vero pure che stavano tutti collegati in LAN, neanche erano in un server, però era comunque l'alpha, quindi è normale. Anche lo stesso comparto grafico verrà migliorato prima dell'uscita del gioco. Comunque, se volete aiutarmi ragazzi, supportate il canale iscrivendovi, facendo iscrivere ognuno un amico, diventiamo un bel poco un attimo, quindi mi aiutereste una cifra e potremo un attimo puntare di più su YouTube. E niente, quindi se volete aiutare il canale, basta semplicemente condividere e fare iscrivere qualche amico. Siamo 10.000, diventiamo 100.000 con un attimo. E dai, grazie a tutti raga, alla prossima, fra poco usciranno una fracca di gameplay. Sappiatelo! Bella raga!